Bentornati a tutti in un nuovo video di Collector Plaza Oggi vi voglio parlare di un accessorio direi essenziale per ogni collezionista di carte collezionabili ovvero i Top Loader Qua vediamo una scatola da 25 pezzi dell'Ultra Pro di Top Loader Regular, trasparenti ma esistono anche in commercio di altri colori, ad esempio ne abbiamo a disposizione questi qua con i bordo verde ma esistono anche rossi, gialli, neri, visti di vari colori ma il risultato non cambia, di fatto si tratta sempre dello stesso prodotto, cambia solo a livello estetico Qua sulla sinistra invece vediamo un nuovo prodotto che abbiamo in catalogo ovvero i Top Loader Box che non sono altro diciamo che dei portamazzi di plastica ma per contenere i Top Loader, infatti sono più larghi appositamente qua all'interno ne ho messi una quarantina, 41 per l'esaltezza di questi qua regular ve lo faccio vedere meglio può essere molto utile sia per contenerli sia per dividere magari etichettando la scatola dividere magari e distinguere soprattutto il contenuto che ci andrete a mettere quindi ottimi per organizzarli ma vediamo nel dettaglio com'è un singolo Top Loader vedete che sono di plastica semi rigida per cui un po' flessibili però che danno quella robustezza necessaria e utile per conservare al meglio le carte è anche ottimo per spedirle quindi ve lo consiglio anche se dovete spedirle e vediamo all'interno come calzano diciamo le carte con sleeve differenti qua abbiamo lo solito Pikachu, Charmeleon Pikachu con una Deck Protector dell'Ultra Pro nera questa dovrebbe essere una Pro Matte e vediamo subito che l'inserimento è piuttosto comodo non è troppo gonfia e vediamo anche con una doppia sleeve qua troviamo questo Charmeleon con una Perfect Size KMC ed esternamente una Deck Protector sempre dell'Ultra Pro ma versione diciamo trasparente quindi adesso la carta è più spessa però entra lo stesso all'interno potete un po' inarcarli in questo modo ecco il dito premerlo all'interno vi consiglio tra l'altro sempre di mettere la carta al contrario o meglio l'apertura della sleeve sempre al contrario rispetto a come mettete la carta nel top loader ovvero qua abbiamo l'apertura verso l'alto per cui andiamo a mettere il top loader con l'apertura verso il basso in modo che quando andate col dito a prendere la carta non rischiate di rovinarla quindi questo è un consiglio potreste fare tecnicamente anche il contrario ritenete aperti i top loader verso l'alto e mettete la sleeve sulla carta al contrario comunque è un accessorio che mi sento di consigliarvi per diversi utilizzi io spesso tengo le carte un po' di valore direttamente dentro i top loader anziché negli album fatemi sapere nei commenti se voi già usate questo tipo di accessorio altrimenti li trovate anche a disposizione sul nostro sito collectorplaza.it e ci vediamo alla prossima recensione grazie a tutti